Il 26 novembre 2009 si è tenuta a Italy la prima edizione di Thanks Dinner, evento di beneficenza organizzato in concomitanza con il giorno del ringraziamento, una festività molto cara agli americani nella quale si ringrazia per l'abbondanza del cibo a tavola. Quest'anno tutto il ricavato è stato devoluto ai servizi vincenziani che collaborano con le suore figli della carità di San Vincenzo de Paoli. Grazie all' loro enorme lavoro e sacrificio riescono a preparare fino a 800 pasti al giorno per coloro che non sanno che cosa siano ricchezza ed abbondanza. Ospiti della serata organizzata dall'attore americano Daniel McVicker e da Virginia D'Agostini, personaggi illustri provenienti dal mondo del cinema, della musica, dello sport, del design, della moda e degli affari, che insieme hanno potuto rivivere, come in una grande famiglia, l'atmosfera della festa del giorno del ringraziamento. L'ospite d'onore è stato il capitano della Juventus Alessandro Del Piero, che ha ricevuto il prestigioso premio Cornucopia, disegnato personalmente da Fabrizio Giugiaro. Il campione del mondo, oltre ad aver ottenuto numerosi riconoscimenti sia per meriti sportivi sia per iniziative personali, è anche testimonial di grande successo, conosciuto per la sua attenzione riguardante temi socialmente rilevanti. Per questi motivi, Thanks Dinner ha ritenuto Alessandro Del Piero il candidato ideale per il premio Cornucopia. La cena è stata coronata dai piatti creati dallo chef di fama internazionale Marc Lanteri, proveniente direttamente dalle cucine del rinomato ristorante Il Baluardo di Mondovì. Insieme alle bontà di alta cucina ideate dallo chef Lanteri, l'atmosfera è stata inebriata dalle performance del soprano Chiara Taigi e della pianista Miwa Bofuku, che hanno elegantemente conferito il giusto tocco di magia ad un'occasione già di per sé straordinaria. L'appuntamento si è concluso con un pa' i parti e con le sonorità del sassofonista Fulvio Albano, direttore artistico del Jazz Club di Torino. Thanks Dinner è stato realizzato con la collaborazione di Italy Keyway, La Presse ed il ristorante Il Baluardo di Mondovì e con il supporto di T18, Biscaldi, Fatish, Sartoria Alessandro Martorana e Ghigo Doni Esclusivi Doni Esclusivi Doni Esclusivi Doni Esclusivi